La politica monetaria delle banche centrali è al centro delle scelte di investimento, ma anche di risparmio relativamente a case di distribuzione, banche ed evidentemente risparmiatori e investitori dei paesi e anche che investono sul paese. Per questo le decisioni che vengono prese dal punto di vista dei tassi di interesse per quanto riguarda un'area o un paese, che sono legate agli obiettivi dell'inflazione, diventano cruciali non solo per le scelte di investimento, ma anche per quello che è la visione in futuro di altri tipi di strategie di medio e lungo termine che vedono le banche centrali fungere da stabilizzatori nei momenti soprattutto di crisi e quindi di calcuirsi della volatilità sui mercati, dei prezzi, dei titoli e evidentemente di tutte le attività finanziarie. Le politiche di quantitative easing hanno visto queste banche centrali coinvolte in un'attività sul mercato inerente all'allentamento monetario, fornire quindi liquidità al mercato e riacquistare titoli, nel caso della Banca Centrale Europea, dei paesi aderenti all'euro, piuttosto che da parte della Fed e del Giappone con una coerenza e quindi una correlazione diretta a quella che era la situazione dei tassi di interesse e le politiche monetarie delle singole banche centrali. Da questo punto di vista abbiamo una situazione divergente. Da una parte abbiamo l'America con una forte crescita economica, arrivata a una proiezione del 2,8% per quanto riguarda il 2018, con un nuovo governatore, Jerome Powell, il quale ha chiaramente detto che è pronto a rialzare ulteriormente i tassi rispetto a quanto già fatto in praticamente tre sedute, alle quali ha preseduto, ha già mosso i tassi per ben due volte e ha chiaramente dichiarato degli obiettivi che riguardano anche il 2019, quindi delle dichiarazioni molto forti e precise per quanto riguarda una politica dei tassi di interesse a rialzo. Stesso cammino sta procedendo per quanto riguarda la Banca Centrale Europea e con un Mario Draghi, governatore della BCE, che si appresta a concludere le attività di quantità di visi in esaurire gli acquisti sul mercato dei titoli entro la fine del 2018 e procedere dopo un periodo di transizione a un rialzo dei tassi che probabilmente si concretizzerà nella seconda metà del 2019, come è stato detto nell'ultima riunione della BCE. Dall'altra parte abbiamo invece una situazione opposta, cioè quella della Banca del Giappone che è ancora in una situazione di allentamento monetario, di misure ultraespansive con un'inflazione che non raggiunge il target come è stato invece per la Fed e per la BCE e quindi con un Giappone che ancora corre dietro a un obiettivo di inflazione non raggiunto e alla necessità di continuare con il quantità di visi nelle misure di stimolo monetario. Grazie! Grazie!